L'ostia antica che prova a mettere ordine allargando il proprio gioco verso sinistra, De Santis con il tiro a giro, prova a centrare lo specchio della porta, palla alta, la striscia di risultati utili consecutivi, pallone gestito in mezzo con la traversa dell'ostia antica su colpo di testa di D'Avello, miracoloso l'intervento di D'Angelo, va dall'armi, illusione ottica del gol con il pallone che tocca la parte esterna della porta, Picciano lancia De Santis, velocissima, cede nell'area di rigore, De Santis morbido con il sinistro ad assistere Franci, la grande parata, doppio intervento di D'Angelo, prima a fermare il numero 8 e poi bravo a tornare sul pallone, ancora Arcadia da terra, prova a duettare Carelli con tanto spirito e anima, riesce comunque a tenere ancora in vita il pallone, Carelli aperto e chiuso l'azione, eccola la prima chance da gol per l'Arcadia in questo match, porta la firma di Alberto Maria Carelli, Carelli se spaccia per il 4, allarga molto bene dalle parti di Marziali, Marziali incrociato e un assist vincente per il gol di Mono il Fargione che sottoporta non può sbagliare, secondo gol in stagione per il numero 11 e vantaggio dell'Arcadia al quinto minuto della ripresa. Si arriverà, quanto tempo ci metterà a replicare l'Ostia Antica? Prova subito a rendersi pericolosa! E qua come un déjà vu a specchio, arriva la reazione dell'Ostia Antica, 30 secondi dopo, con questo pallone messo in mezzo da D'Avello e sottoporta, arriva il gol dell'1-1 dell'Ostia Antica, bene il pallone, il centrocampista dell'Ostia Antica, De Santis, finta di gambe, De Santis! Conclusione respinta in calcio d'angolo da D'Angelo. Il compagno, allora concede una chance a Marziali e all'Arcadia, solita asse, Marziali-Forgione, punto all'avversario del numero 11, Forgione, forte con il destro, parata bassa di Barrago, D'Angelo, va a De Santis con il destro, punizione, la gara lascerà giocare qualcosina in più, traversone messo in mezzo con l'aggancio ottimo da parte di Luciano che cerca l'ausilio di un compagno e l'Arcadia passa in vantaggio in extremis con il gol del 2-1 di Mattia De Martinis, secondo centrostagionale per il numero 19 e il nuovo vantaggio per la formazione ospite. Benissimo e finisce qui l'Arcadia nel finale conquista tre punti pesantissimi all'Aldo Brandi e vince la sua terza partita in stagione che permette ai gialloneri di salire a quota 14 punti in classifica.